Mister Enzo Civico, a cinque giornate dalla fine il trivento protagonista di un ottimo campionato, possiamo stilare un bilancio prima del rush finale? L'obiettivo era quello della salvezza, lo abbiamo raggiunto, adesso ci troviamo in zona playoff, cercheremo di preparare al meglio queste cinque partite perché se sarà possibile ci vorremmo togliere anche questa soddisfazione. L'obiettivo possiamo dire già raggiunto rispetto allo scorso anno, il trivento ha fatto veramente un grande passo in avanti, l'anno scorso avete perso nei playoff, quest'anno invece possiamo oltre che dare uno sguardo alla fine del campionato ma anche uno sguardo alla post-season, ai playoff? Sì, l'anno scorso sicuramente è stata un'annata sfortunata, è andato tutto storto, quest'anno la società è stata brava a ricompattarsi, a rifare la squadra e diciamo che sono arrivati anche i risultati, siamo contenti. Adesso ci godiamo questo finale di stagione senza pressioni perché la società sinceramente non ci ha chiesto nulla di più e quindi ripeto, se sarà possibile ci toglieremo anche questa soddisfazione. Il mese di aprile sarà decisivo per le squadre che lottano per il vertice, adesso in testa c'è il Baranello, ha riservato sorprese questo campionato? Sì, innanzitutto è stato un bellissimo campionato perché diciamo che sono aperte tutte le posizioni sia al vertice che in fondo alla classifica, quindi nulla è deciso, siamo a cinque giornate dalla fine e sia in testa che in coda ci sono tutte squadre raggruppate in pochi punti, quindi sarà un bel finale di stagione per tutte le squadre. A rientro affronterete Roccaravindola, come gestirete sia la pausa che appunto la gara e questo rush finale, le ultime gare di campionato? Adesso ci stiamo rifacendo tra virgolette una mini preparazione per prepararci al meglio e incontreremo una squadra sicuramente difficile, lo è stato anche all'andata, abbiamo vinto 1-0 ma è stata una partita combattutissima, quindi sappiamo che andremo ad affrontare un avversario di valore. Ripeto, per le altre partite ci prepareremo al meglio e cercheremo di affrontarle tutte con il piglio giusto e cercare di vincere le più partite possibili. Un'altra gara ostica potrebbe essere quella con la Juvenes, per il resto le restanti gare il calendario sarà più agevole per voi, quantomeno su carta? Ma veramente su carta perché il Morcone è in netta ripresa, lo sta dimostrando domenica per domenica, vabbè la Juvenes la conosciamo, ci ha sconfitti pure all'andata, ma io non sottovalido né il busso a nessuna squadra che affronteremo perché saranno tutte partite difficili.